ciao sono marco del sito giocaratennis.it e in questo consueto video del venerdì in questo breve video volevo parlare della posizione del cameriere nel servizio in pratica la posizione del cameriere è la posizione nella quale noi ci troviamo quando muoviamo velocemente la racchetta prima di andare a colpire la palla oppure quando siamo all'inizio nel momento in cui muoviamo prima la racchetta ci fermiamo qui e poi lanciamo la palla questa pausa qui dietro che di solito viene col palmo della mano rivolto verso l'alto ci fa perdere velocità e fluidità del movimento l'obiettivo è quello di prima lanciare la palla e poi muovere la racchetta questo avviene per gradi ma l'obiettivo è quello di lanciare la palla e nel momento in cui la palla è su il piatto corde deve essere qui rivolto leggermente verso il basso e non verso l'alto altrimenti ci troveremo nella posizione del cameriere e perderemo velocità e fluidità e quindi